Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, pronostici per l'undicesima giornata di Serie A soprattutto un sabato ricco di partite interessanti, andiamo subito a fare questi pronostici cominciamo con Napoli-Empoli che andrà in scena stasera con Napoli secondo me l'Empoli sarà cotto dalla partita con la Juve, vedo una partita abbastanza facile per il Napoli che secondo me vincerà e anche con un largo vantaggio sabato Inter-Genua, partita interessante, anche qua secondo me l'Inter avrà vantaggio del fatto che il Genua sarà stanco dalla partita di mercoledì col Milan e quindi credo che alla fine vincerà la partita l'Inter Fiorentina-Roma forse è la partita più bella di questa settimana attenzione perché la Fiorentina non è da sottovalutare la Roma anche se ha vinto la penultima partita e ha pareggiato a Napoli con Napoli secondo me non sta ancora benissimo e la Fiorentina può mettere in difficoltà quindi 1x Fiorentina a sorpresa sabato alle 20.30 Juventus-Cagliari sono le partite peggiori per la Juve soprattutto quando ha da giocare la Champions dopo metto la vittoria della Juve ma attenzione non è da sottovalutare non è da prendere troppo con le molle la partita alle 12.30 Lazio spalla, attenzione che la spalla tanta voglia di rivalsa e viene da una sconfitta che brucia come col Frosinone attenzione perché secondo me la spalla potrebbe ottenere dei buoni risultati un buon risultato quindi metto l'X2 spalla sorpresissima Chievo Sassuolo invece metto Sassuolo vincente Parma-Frosinone metto l'1 del Parma Frosinone ha vinto con la spalla e secondo me adesso accuserà un po' il colpo Sandoia-Torino secondo me è la partita giusta per vedere la Sandoia vincere Bologna-Atalanta delle 18 secondo me l'Atalanta andrà a vincere a Bologna e Udinese-Milan delle 20.30 di domenica vedo un bel tranquillo una bella tranquilla vittoria del Milan anche perché insomma l'Udinese non è che stia facendo proprio così bene dunque ragazzi questi sono i miei pronostici per l'undicesima giornata di Serie A mettete se volete come sempre i vostri qua sotto e a me non resta che darvi l'appuntamento con i prossimi video del canale ciao